molto contento di questa notizia, cioè che effettivamente i dati che abbiamo elaborato, rielaborato e ancora valutato dalla zona rossa oggi sono arrivati alla crescita zero, quindi questo vuole dire che lì è il punto che deve essere preso come riferimento, come modello, come tentativo di realizzare quello che si è verificato in quella zona. Chi applica le misure rigorose blocca lo sviluppo del… e ripeto, il Ministro Speranza era molto soddisfatto di questa notizia, mi ha detto che la comunicherà anche lui negli altri territori dove non si sono ancora avute magari delle espansioni come da noi, proprio per ribadire la necessità che le misure devono essere applicate rigorosamente.